Gianni Di Venanzo è il più grande direttore della fotografia di tutti i tempi, lo ha detto Ferran Paredes Rubio sul palco del Teatro Comunale di Teramo, dove gli è stato consegnato l'esposimetro d'oro per un film italiano nel corso della cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzato dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Con la consegna dei riconoscimenti cala il sipario su poi il suo importante premio. La cerimonia si è trasformata in una festa del cinema a cui tanti ospiti hanno portato il proprio contributo. Madrina della serata, l'attrice Mita Medici, che ha ricordato il suo primo film, Estate, girato a soli 16 anni. Grande protagonista della cerimonia, condotta da Chiara Giallonardo, presentatrice di Linea Verde su Rai 1, è stata l'attrice teramana Maria Grazia Scuccimarra, a cui è bastato un piccolo sketch per scatenare l'entusiasmo del pubblico in sala. Pasquale Rachini, direttore della fotografia cinematografica di tanti film di Pupi Avati, ha ritirato l'esposimetro d'oro alla carriera, mentre l'esposimetro alla memoria di Vaklav Vick è stato consegnato nelle mani dell'attore connazionale Ivan Franek. Prima della consegna degli esposimetri d'oro sono stati assegnati due premi speciali. A Nicola Saraval è stata consegnata la targa Peppe Berardini per la categoria Fiction TV, per il film televisivo I Fantasmi di Portopalo, mentre la targa speciale della giuria Marco Onorato è stata assegnata a Roberto De Franceschi. Al termine della cerimonia, il presidente dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, Piero Chiarini, e il direttore artistico Sandro Melarangelo, nel ringraziare gli intervenuti, hanno ricordato la storica vocazione culturale della città di Teramo, detta l'Atene del centro Italia, e per orato ancora una volta la causa per il recupero completo del teatro romano.